In principio fu Action T-Fear, un progetto che nacque come forma di reazione nichilista alla società di cui facevamo parte. Infatti vivendo in un ambiente rurale del sud Italia, la nostra ricerca musicale ci portò verso una forma di espressione artistica in antagonismo con quanto ci circondava. Il progetto venne sospeso per poi essere ripreso sotto il nome E-Action. A distanza di diversi anni, la nostra ricerca ci ha portato a seguire ruoli differenti e il nostro intento è mutato negli anni. Adesso la nostra forma espressiva si caratterizza di una provocazione verso lo spettatore, di trasmettere degli impulsi emotivi che partono dalle differenti personalità che ci caratterizzano e che sono riconoscibili nelle nostre produzioni. Attualmente siamo in attesa dell'uscita della release Cluster B. Inoltre siamo in fase di completamento di un altro CD interamente realizzato in collaborazione con Lightweight. all'inter hesitate libendociare la r적enda ab入iare, guid binotiviano di doppia,